La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per un valore complessivo pari a circa 2 milioni di euro riconducibili a Calogero Rizzuto, 65 anni e al suo nucleo familiare. Le indagini eseguite nei confronti di Rizzuto, già arrestato dalla Guardia di Finanza a gennaio del 2017, sulla base di un provvedimento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno rivelato il suo ruolo di spicco in un'organizzazione dedita al traffico di droga e i suoi contatti privilegiati con esponenti palermitani di Cosa Nostra. Già nel 2005, infatti, era stato arrestato per i suoi traffici illeciti insieme ad altre persone, tra i quali Mario Adelfio, 50 anni, vicino alla famiglia mafiosa di Palermo-Villa Grazia. A seguito delle indagini patrimoniali, è emerso come Rizzuto, avesse investito i proventi illeciti nel traffico di droga in attività commerciali di pregio, sia a Roma che a Rò, nel Milanese, e le avesse intestate in maniera fittizia ai propri familiari. Tali risultanze hanno portato al sequestro, disposto dalla sessione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, di aziende, rapporti finanziari e immobili, tra i quali spiccano una villa di ampie dimensioni con piscina e arredi di lusso, una dita individuale esercente all'attività di barberia a Roma, ed un ristorante nella provincia di Milano.